L'Italiano che conosciamo è stato restituito alla cittadinanza ed è importante questo come distruttare anche le informazioni di Napoli proprio per riappropriarci di quella soia è una storia che ci ha sempre giustificato, non si può capire perché naturalmente il regno di te d'Italia e la successiva reciproca si fondano proprio su questo e quindi per loro era importante attraversare i fatti giustificando quella che prima di te è stato ricordato più volte. Quello che comunque è bello è sicuramente il fatto di vedere così tanta gente ed è un processo che naturalmente deve ancora, c'è ancora tanto strada da fare ma è importante ricordarci anche che molto è anche stato fatto e questo è testimoniato dalla numerosa presenza di persone che hanno capito e conoscono la vera storia e si possono riappropriare delle nuove identità di essere occupati. Grazie. 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 dalla storia la tua bandiera vengono a pensare su un desame nel caro città scriviamo ancora la parola d'inventà da un fortuno che calesti qui e nessuno per cent'anni il nome tuo scolpì ai figli di schienotti l'amoro che vivrà mai ritornati dal passato tutti non crederà sa bocca vincerà la bandiera l'ambulino suona come all'or ma sente la fortuna come il cuore il valore il valore di cittadini ma adesso ci vi unì ritornati dal passato di noi crederà stavolta vincerà figli di schienotti figli di schienotti figli di schienotti grazie a tutti 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.